A volte ci capitano cose a noi strane, incomprensibili, ma oltre al nostro karma non è che il Krishna si può un po' anche divertire, essendo un po' come abbiamo detto adesso, a vederci un po' in difficoltà, magari. Assiede, the devotees is asking, aside, our many problems, our karma, whatever happened to us, but maybe it's not that Krishna would like to taste us, see what also is our desire for serving Him. Yes. Per servire abbiamo bisogno di un spirito di servizio. Che modo vuoi servire? Che spirito vuoi servire da? Quale spirito? Sì. Ci sono tre sentimenti, tre modi. Is written by Chaitanya Mahāprabhu. Tato scritto. Rā Rāmananda and Mahāprabhu Sambhad, tre. Quando c'è fu l'incontro tra Rāmananda e Chaitanya Mahāprabhu, Rāmananda Sambhad. Bhāsali, Sākhyā and Mahāprabhu. Bhāsali, Sākhyā and Mahāprabhu. In this, what you like, you have to make this mood to understand yourself. Tra questi tre tipi di sentimenti, tu devi capire, tra questi tre, quali trovi meglio. Non ci sarà questo Sambhanda, questa relazione intercorre fra me e lui, ci sarà solo una forma di reverenza, ma non ci sarà quel sentimento. che sentimento che c'è nel Voloca. Avrai uno spirito più in vai conto. That's the sentiment of reverence that is from me. He will bring you Dvaraka. Tu andrai a Dvaraka. Dimenticherai la Cuscienza di Dio. Allora tu arriverai e andrai a Brāja. Sākhyā and Mahāprabhu. You see Chaitanā, Chaitanārita Prabhupāda. Adi dila 4 canto. Quarto canto. è scritto che Krishna, Brajantananda, figlio di un figlio di cui può capire Brajantananda. Fuglio di un figlio di un figlio di cui può capire Brajantananda. Solo necessitiamo qualificazione, anche un bambino, anche un bambino, un figlio di un figlio di un figlio di cui può capire, Krishna come Brajantananda. E' spiegato lì che il signor Chaitanya Mahaburu è venuto per gustare questo Rasa. E' spiegato questo Rasa nel nome. Secondo. e Brajantananda non uccide i demoni. Brajantananda Krishna non uccide i demoni. Questo è il lavoro dell'instruzione di Krishna per Nara e Nidu. basso Deva, basso Deva. Sì, Nara e Nidu. C'è la differenza tra Brajantananda Krishna e lui risiede a Brajantananda e fa solo Lila. E quello che riguarda la sezione di quando deve uccidere i demoni, questo non lo tocca, viene fatto da Nara e Nidu. Uno è Radha Krishna e l'altro è Rukmini Krishna. In Dvaraka c'è Rukmini Krishna. In Dvaraka Rukmini Krishna Senza comprendere che è Krishna, senza comprendere Radha, come possiamo capire che c'è Krishna dentro, in Vrindhava? Questo è Chaitanya. Se uno prende il rifugio in Chaitanya ma apre, non ci sarà modo di arrivare a Gvarika Lila. Se qualcuno di voi riesce a mostrare qualcosa, un paragrafo in cui si dice che Krishna è Advaraka, Dvaraka Krishna. Ricordo la domanda a Naragi, ma quando noi soffiamo è Krishna che è un leader di Krishna che si diverte. Ricordo la domanda che la domanda è la domanda che la domanda è la domanda. La domanda è la domanda di Krishna quando stiamo soffermi o è il nostro karma o è il nostro privilegio? Devoeti non sofferti. Devoti non soff Fair! i devoti anche nella sofferenza loro sentono la misericordia lui si sente fortunato che questa sofferenza qualcosa che gli sta succedendo è fortunato è fortunato per lui è un buon sentimento ma se comunque uno vede le cose secondo quella prospettiva e comunque è un modo per essere sempre questo diventa ancora più bello anche quando c'è la sofferenza anche nella sofferenza non sente la misericordia I know, I see from my eyes many jampus they feel mercy si sono, ha visto con i suoi occhi tanti esempi che hanno ricevuto la misericordia anche le persone che magari si trovano in una situazione molto particolare loro, nella loro sofferenza hanno sentito più misericordia e sono, diciamo, cresciuti più velocemente Volevo dire che abbiamo avuto un'esperienza un'esperienza qui che ci ha riguardato Rida Cetania prima di andarsene pochi giorni prima ma l'ha detto ma l'aveva detto anche in altre occasioni questa è riferendosi al tumore che lui aveva questa è la più bella cosa che poteva succedermi nella vita perché grazie a questo tumore ho scoperto cos'è l'amore io avevo detto cosa Rida Cetania aveva parlato su questo problema di cancer e prima di passare lui avevo detto che ho scoperto che questa è Questo sofferenza è in realtà l'amore. La cosa migliore che succede. Sì perché grazie a questa disgrazia ho scoperto cosa è l'amore. Named to this disgrace, this sofferenza, ho scoperto cosa è l'amore. I can say from my eyes about Kirde Cattanya, at the moment he leave the body, before he got all realization, in very, very short time, very, very, very short time, he was totally fixed. He don't see other things. He said to me... Sorry, translate. He said to me, I don't want to think any material. He said to me, I don't want to think any material. All my things bothered to me, fix it. All my things bothered to me, fix it. And everything we resolved, that to make his mind clear, and he all sign and everything, and he start only, the moment it happens, only fix the world for him. He's an example. He's a Mahatma. Unespected. I never see him, like his mist ha fixed, surrender to the Radhika's Lucas. Lui ha visto come lui era, diciamo, fisso nella sua sottomissione, era questa mista, Radhika in Radhika. Surprising. Una cosa molto sorprendente per Manasi. And, last moment, when they start chanting, Radhe, 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 he starts chanting, and Radhe, Radhe. He turns his face and move. He closes his mouth. No point. Molto sorprendente. The same fate has to happen to us. For sure. You see? I see many people, from Brindavan, they go to die in Delhi, in ventilator. and one Italian, only blessing of God, he comes to die, leave his body in his mouth. What he has said? I never see he has a pain. Sometime you feel, Everybody feel, ah! He never say anything to anyone, that I am suffering with pain. Never. Never. i.e. ... And one thing I forget to say, he is an Buddha-Cyattanya offensive, he is living body here, and his flight is coming to India. He comes and he passes. This is the friendship. Why? Because he arrived, now he will take care of everybody. When Ramananda arrived, he arrived at Cetania and he was already there, so he would have been taken care of everything. This is Divine-Rage Relationship. About him, many things. and I went to see him many times because I was last year in a cafe and we share many things together and also five days before the Passover I was this year. Yes. And the thing that was mostly created an impact on me that what he is saying we have to love all the devotees. He was always saying this, we have to love all the devotees. Never criticize anybody or think bad or somebody. I was, he was like instructing us in telling don't see defect in others, always hit the good in others. Love the devotees, don't hate the devotees. Why? We talked, we talked a lot of times because I was, we were close. I was staying there in, near Krishna Paddan there and we were at the hospital. So I was, I mean, that was the... Fred, I say you know, I don't understand much Italy but I see the feelings. Yeah. I was saying that, well, I was the last year I was in the Intercartica and I was close to where he was. So, I remember when I was when I was talking about this, I remember when I was talking about this, and you were well at the time. And you were there all the time? You were there all the time? You were there all the time? Yes. I was talking about this, and I thought, when I was talking about this, I felt like he was close to him. perché lui realmente era venuto per lasciare il corpo e quando uno va a vendare per lasciare il corpo anche bisogno di aiuto di sostegno ma nel dare il sostegno ma che riceve il sostegno e poi appunto l'ho visto cinque giorni prima che lasciava il corpo sono insomma siamo visti e stavo dicendo che la cosa diciamo che mi ha sempre cioè lui diceva io non sono grande conoscenza ma conosco la filosofia però io so che bisogna amare tutti i devoti diceva non bisogna pensare o dire contro i devoti diceva se bisogna amare tutti i devoti non importa di che famiglia uno patente però mi diceva questa è una cosa che mi ha colpito in lui diciamo che aveva si era staccato dal mondo materiale dal pettevolezzo al gossip e ciò che era diciamo la critica no anche quindi questa è stata una cosa anche molto bella che niente sicuramente ha fatto un pezzo da passo e dalla disfantica mi ha dato lui ciao a vedere grazie grazie grazie